Colorificio Ardizione. Risultati garantiti. La nostra azienda, presente sul mercato da oltre 50 anni, è specializzata nel settore delle vernici professionali per carrozzeria e per edilizia. Presso la sede di Via Licia, la vendita si è indirizzata maggiormente verso il settore edilizia professionale grazie alla proficua collaborazione con il marchio SICKENS, divisione edilizia e con l'apertura di uno showroom dove è possibile visionare tutti i prodotti della gamma applicati su parete. Inoltre è possibile ricreare colori a campione grazie all'utilizzo dello spettrofotometro, un sofisticato strumento elettronico. Presso la sede staccata di Via di Trigoria è stato allestito un laboratorio nel quale vengono preparate le vernici per auto a campione. La distribuzione in carrozzeria viene effettuata giornalmente grazie ad una rete di venditori che coprono principalmente la zona della provincia di Roma. La nostra filosofia di vendita è fondata sulla professionalità, sul servizio e sulla consulenza al cliente, oltre alla competitività nei prezzi. Il colorificio Ardizzone è a Roma, in Via Licia 2426, laboratorio e magazzino in via di Trigoria 45.